Ciao a tutti ragazzi Oggi vedremo come installare Minecraft Premium gratis Andate, potete semplicemente cercare Minecraft E poi vi metterò anche il link in descrizione Minecraft Lo scaricherete semplicemente Quello ufficiale dal sito di Minecraft Qui entrerete qua Download it.gr Che vuol dire scarica questo qua Minecraft.exe Cliccate e vi dirà di salvare il file Poi mettetelo sul desktop O dove fare insomma Dove potete trovarlo facilmente E io poi dopo per l'avvio Vi consiglio di metterlo in una cartella Perché creerà molti file tutti insieme Per giocare Che senza questi file noi non potremmo giocare Mettiamo Minecraft.ly Poi vi metterò anche quest'altro link in descrizione Oppure basta che cercate E qui su questo sito vi genererà degli account premium per Minecraft Non sono un robot Poi qua Get account E qui vi genererà degli account Su band info vedete da quali server Cioè fa vedere usando questi tre server Più famosi Ad esempio questa è stata bannata sia da Mineplex che da iPixel Cubecraft Games che è un server molto carino Non è stata bannata da quello Però qui potete fare Get another account Che potrete Vi farà vedere un altro account Questo è buono perché non è stato bannato da nessuno Io vi consiglio per ricordarvelo Siccome ve lo chiederà tutte le volte che giocherete a Minecraft E vi chiederà la password e l'email Quindi io vi consiglio di fare un documento di testo su cui scriverli Poi quella avete con il password Il resto ma Queste sono le mie password Salviamo Questo possiamo metterlo Riducendo l'icona Vi consiglio di non chiuderlo Qua aprite Minecraft Eseguite Qui vi creerà i file Come vedete Natale Vlog Che sono file che servono per funzionare Come dicevo prima Dopo questo caricamento Vi avvierà Minecraft Qui apparirà il launcher Ora vi chiederà l'email Quindi prendiamo questo Poi potete accedere con questo Ma io preferisco accedere con la mia Insomma con la mia vecchia password Perché se no poi rischio di magari Non mi prende più Perché mi è già successo E l'ho già dovuto rinstallare diverse volte E qui vi caricherà E vi farà accedere qua Col vostro account Qua Play Vi scaricherà il Il sistema operativo A me ora fa veloce Perché l'ho già installato Vedete fa veloce Però poi ci starà un po' di più Quando lo scaricherete per la prima volta Perché Ha da scaricare tutti i blocchi Tutto Insomma varie cose Ora su Minecraft Con l'account premium Potete accedere anche ai server premium Che sono molto belli Se no non si chiamerebbero Se no non li farebbero pagare Gli account premium E su questi server premium Giocherete insomma Sono server Solo che c'entra molta più gente E sono più carini Allora Ora si sta avviando Minecraft Io come vedrete Avrò già I vari server registrati Perché li ho già registrati Poi vi Magari vi metterò in descrizione Qualche IP di server carini Qua Avete Ora come vedete Ho un pacchetto di sorsi Attivo Faithful Che è anche New World Che è molto carino Comunque Voglio farvelo vedere Normale Come funziona È Più classico Andiamo sul classico Fatto Avremo Vabbè I pacchetti di sorsi Poi magari Sarò un video Anche su quelle Se qualcuno Non sa ancora Come funziona Qui Multigiocatore Andate E qui Avrete I vari server Dovete consentire L'accesso a Java Perché se no Non potrete giocare Io Allora Ora sono rientrato Quindi funzionano Alcuni server Ad esempio Possiamo entrare In Vanilla Puro Che è un server italiano E allora Ho trovato alcuni server Ora mi sto entrando In Vanilla Puro Che prima Non funzionava Che è un server italiano Molto carino Il primo Tra i server italiani Premium E non funziona Perché Era entrato Accesso in corso Ok siamo entrati Bentornato In Brock 2 Ok si è aperto Ci dobbiamo buttare Di qui Questi sono Tappeti Elastici Andiamo qua Andiamo Possiamo Questo ci attraversa Non c'è problema Qua usciamo Qua insomma È un server Qua troverete gente Dice che non puoi spaccare Questi blocchi Vabbè Qua andate avanti Se lo vedete Questo non puoi rompere niente Finora Poi quando funziona Un po' potrete Potrete anche distruggere qualcosa Per prendere i pezzi Qui ancora no Insomma è un server E qui funziona Guardate vi faccio vedere Da giù che c'è una casa Come vedete possiamo Anche le colline hanno emozioni Eh Jojo Anche le colline hanno emozioni Secondo Jojo Qui Di chi è questa casa Di chi è Casa di Mastercraft Non so chi sia Bene Cose indiamantate Non toccare Quanta roba Non prendiamo vai No shit Sherlock Prima salire le scale Qua abbiamo C'è una cassa Non penso che possiamo Prenderla questa roba Boh proviamo Anzi no Rimettiamo Che dice Boh Boh no Vabbè Non prendiamolo Poi se Volevate che Facessi qualcosa O che faccia qualcosa Alto Tipo Su come mettere Delle cose Dite pure Nei commenti E questo Era il Minecraft Premium Vi lascerò Tutti i link In descrizione E Ciao a tutti 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 Ciao a tutti